Il treno regionale 7200 di Trenitalia, proveniente da Belletri, è diretto a Roma Termini, delle ore 5 e 11, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allottanarsi dalla linea gialla. Ferma a Cecchina, Carcelliera, Pavona, Santa Maria delle Mole, Casa Bianca, Giampino, Capannelle, Roma-Casilina. Il treno regionale 72005 di Trenitalia, proveniente da Roma Termini, è diretto a Belletri, delle ore 6 e 50, è in arrivo al binario 1, invece che al binario 2. Attenzione! Allottanarsi dalla linea gialla. Ferma a San Gennaro, Santa Eurosia. Il treno regionale 7234 di Trenitalia, proveniente da Belletri, è diretto a Roma Tiburtina, delle ore 18 e 40, è in arrivo al binario 2, invece che al binario 1. Attenzione! Allottanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni eccetto, Carcelliera, Casa Bianca. Il treno regionale 7238 di Trenitalia, proveniente da Roma Termini, è diretto a Belletri, delle ore 18 e 40, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allottanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni eccetto, Santa Eurosia. Il treno regionale 7238 di Trenitalia, delle ore 18 e 40, per Belletri, è in partenza dal binario 1. Ferma in tutte le stazioni eccetto, Santa Eurosia. Il treno regionale 7243 di Trenitalia, proveniente da Belletri, è diretto a Ciampino, delle ore 20 e 44, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allottanarsi dalla linea gialla. Ferma a Cecchina, Pavona, Santa Maria delle 9. Il treno regionale 7248 di Trenitalia, proveniente da Roma Termini, è diretto a Belletri, delle ore 21 e 11, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allottanarsi dalla linea gialla. Ferma a San Gennaro, Santa Eurosia.